Raccolta differenziata a Pozzallo. Come si comportano i pozzallesi e i turisti che in questi giorni soggiornano a Pozzallo? In questa intervista che stiamo per trasmettere, Piero Giuntani ha parlato con la responsabile della NCP Consult, dottoressa Natalia Carpanzano. Ascoltiamo. Dottoressa Natalia Carpanzano, quali dati ci può fornire per quanto riguarda la raccolta differenziata a Pozzallo? Come si comportano i pozzallesi e i turisti che soggiornano a Pozzallo? E quali sono le criticità riscontrate, se ce ne sono? Salve Piero, a te e a tutti i radioscoltatori. Sì, sicuramente la città di Pozzallo ultimamente ha delle pressioni per quanto riguarda la raccolta differenziata notevoli. Io vorrei ricordare però, dare solo un dato per cominciare questa chiacchierata, che dal 2018 al 2020 siamo passati da un tasso di raccolta differenziata del 27% ad un tasso che supera il 65%. Nel 2021 ancora questi dati non sono stati pubblicati. Questo per dire che sicuramente negli ultimi anni c'è stato un notevole incremento della raccolta differenziata. Questo però non significa la soluzione al problema. Pozzallo, come tanti altri paesi rivieraschi, ha forte pressione turistica, ha delle problematiche che sono legate sicuramente a tre canali principali. Uno è quello delle utenze domestiche in sé, quindi le famiglie. Molte volte ci sono problemi legati a un cattivo smaltimento dei rifiuti da parte delle famiglie. Ci sono famiglie che mettono fuori i mastelli della differenziata agli orari sbagliati, famiglie che non ritirano i mastelli, famiglie che non usano i sacchi appropriati. Quindi questo sicuramente è un problema. Il secondo problema è quello che molti esercizi commerciali non fanno una corretta raccolta differenziata perché sono sotto pressione. Immagino un ristorante nel periodo di ferragosto ovviamente ha delle difficoltà proprio a livello di tempo nel poter svolgere determinate mansioni connessa alla raccolta differenziata. E un'altra cosa è sicuramente la pressione turistica. Turisti che spesso sono ospitati per esempio in case vacanze abusive che quindi non pagando latari non sono dotati di mastelli e sacchetti. E quindi prendono e buttano i sacchi dell'indifferenziato un po' dovunque a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo sicuramente non aiuta a fare apparire la città più pulita. Ecco dottoressa Carpanzano, quali sono le attività, gli strumenti che la vostra società mette per cambiare la città e renderla più pulita? Sicuramente le attività che verranno svolte per migliorare questa situazione non partono da un attore solo, ma partono da tutta la comunità pozzallese. Composta dalle famiglie, composta dagli esercizi commerciali, composta anche dai turisti che vi soggiornano per brevi periodi. Sicuramente deve essere una serie di attività concertate. Per quel che ci riguarda la nostra società ha già in atto, forse voi li avrete visti, a girarsi per Pozzallo una serie di visite informative fatte da due nostri operatori che stanno girando a tappeto tutti gli esercizi commerciali di Pozzallo. Noi siamo partiti in special modo da quelli più sensibili, quindi ristoranti, paninerie, stabilimenti balneari, per dare loro le informazioni corrette su come smaltire i rifiuti, verificare se hanno anche problematiche legate per esempio alla presa in carico dei mastelli o dei sacchetti o qualche altra problematica correlata per esempio alla necessità di avere più passaggi di indifferenziato piuttosto che di vetro o piuttosto che di plastica. Quindi questa è una cosa che sicuramente sta aiutando molto gli esercizi commerciali. Per quanto riguarda le famiglie abbiamo attivato dei canali social che vi invito a visitare e condividere con i vostri amici. Sono le pagine Facebook e Instagram Pozzallo Differenzia e inoltre c'è anche una mail dedicata a pozzallodifferenzia.com oltre che un apposito sito internet che si chiama Pozzallo Differenzia che sarà attivo e funzionale nei prossimi giorni. Questi canali di informazione servono a che cosa? Servono all'utente di qualsiasi genere a richiedere informazioni su eventuali necessità che hanno mastelli che non sono riusciti ad ottenere, dubbi che hanno sugli orari di esposizione, necessità di qualsiasi tipo di informazione ma anche e soprattutto la segnalazione di disservizi. Se voi avete un disservizio che apparentemente non riuscite a risolvere, per esempio non vi raccolgono mai l'umido il lunedì mattina voi potete comunicarlo tramite questi canali e noi provvederemo a veicolare l'informazione all'ufficio ecologia che provvederà tramite la ditta che è incaricata dello spazzamento dei rifiuti e della raccolta dei rifiuti a risolvere la problematica. Io vi faccio un esempio banale di quello che è successo proprio a me nelle settimane precedenti. A me è capitato per due o tre giorni di fila che non mi raccogliessero l'umido davanti alla porta, non riuscivo a capire perché. Poi ho fatto la segnalazione e abbiamo risolto il problema. Qual era il problema? Che dagli inizi di luglio, essendoci più turisti a Pozzallo, mi parcheggiavano le macchine davanti casa. Io mettevo il mastello nella stessa posizione delle settimane precedenti, di quello che facevo in primavera e in inverno e in autunno solo che non c'erano macchine davanti, quindi l'operatore non vedeva il mastello dell'umido e non lo raccoglieva. Ho semplicemente spostato il mastello due metri più in giù e non ho avuto nessun problema di raccolta. Quindi magari certi tipi di problemi sono di facile soluzione, basta soltanto analizzarli insieme. Su queste pagine troverete anche tutte le informazioni su eventuali cambi di calendario nella raccolta, eventuali disinfestazioni, tutto quello che riguarda l'argomento. Quindi vi invito assolutamente a unirvi a queste pagine e a condividere con i vostri amici sui social e anche con altri mezzi queste informazioni che saranno utilissime. Voglio aggiungere una cosa, come ho detto prima, ribadisco che per ottenere dei miglioramenti a Pozzallo dobbiamo lavorare tutti insieme e vi invito la comunità pozzallese a farlo fortemente, a volerlo fortemente perché sappiamo tutti che Pozzallo è un gioiellino e dobbiamo farlo splendere insieme. Ringrazio la dottoressa Natalia Carpanzano, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. Ringrazio la dottoressa Natalia Carpanzano, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.